buongiorno signori sono l'uomo di casa eccoci ad un nuovo video in collaborazione col sito pc primipassi punto it è veramente bello poter fare questi video sono molto contento e ringrazio soprattutto il mio amico raven che mi dà la possibilità di collaborare con questo sito di cosa parliamo oggi beh oggi parliamo di sicurezza informatica in particolare parliamo di un particolare stato d'animo a volte ci capita che scansioniamo il computer nulla è presente all'antivirus ma noi abbiamo un tarlo il tarlo che il nostro computer sia infetto come possiamo andare a verificare se il nostro computer infetto oggi vedremo proprio questo e lo vedremo senza utilizzare nessun programma software scaricato bensì andando utilizzare solo due strumenti che troviamo all'interno di windows stesso incominciamo subito apriamo il primo strumento il primo strumento è la gestione attività quindi andiamo sotto nella barra delle applicazioni tasto destro la terza ultima che trovate qui è gestione attività ci cliccate sopra e si apre la nostra gestione attività che per il momento lasciamo qui in standby il secondo strumento che utilizziamo invece è il prompt dei comandi di dos l'unico l'unico ci sono un paio di modi per arrivarci il più semplice è questo andate nella barra di ricerca dentro la barra delle applicazioni e scrivete cmd e arrivate al prompt dei comandi potete anche andarlo a cercare scrivendo prompt oppure potete cercarlo nelle negli accessori di windows e lo trovate prompt dei comandi è importante che in questa occasione noi apriamo questa applicazione eseguendo la come amministratore possiamo cliccarlo qui da destra esegui come amministratore oppure tasto destro esegui come amministratore ci verrà chiesto di autorizzare l'applicazione noi diciamo di sì ecco qua davanti a noi c'è il nostro prompt dei comandi di dos noi oggi utilizzeremo il comando netstat ora faccio un inciso io tenterò in maniera molto semplice di spiegarvi tutto riguardo a questo comando anche per coloro che non si intendono molto di sistemistica farò proprio flash un riassunto super sunto se ci sono domande scrivetemele qui sotto nei commenti purtroppo per non far durare il video 20 minuti devo per forza saltare alcune cose e spiegarvi in maniera veloce delle altre però se non capite c'è pc primipassi punto it dove potete chiedere oppure chiedetemelo qui sotto nei commenti e io vi risponderò dicevamo usiamo il comando netstat se voi scrivete netstat vedete che compaiono tutte le connessioni attive e questo infatti il comando per farci comparire le connessioni attive nel nostro computer vedete che tutto si basa su quattro colonne la prima colonna riguarda il protocollo vedete che tutte le connessioni sono col protocollo tcp che vuol dire trash transmission control protocol praticamente è il mezzo che il computer usa per trasportare le informazioni quindi ci dice come vengono trasportate le informazioni poi abbiamo la colonna indirizzo locale quindi da dove partono le informazioni e poi abbiamo adesso qua mi escono tutti i miei datini e va bene l'indirizzo esterno cioè dove arrivano le informazioni e lo stato della connessione che può essere come in questo caso stabilita oppure come in quest'altro caso qui sotto chiusa e in attesa se volete giocare con il comando netstat potete scrivere netstat spazio meno punto interrogativo in questo modo vi vengono fuori tutte le informazioni relativi alle opzioni di netstat noi oggi ne andremo utilizzare quattro io non vi leggo a che cosa sono riferite potete leggerlo da soli perché se no veramente il video non finisce più quindi utilizziamo netstat meno a meno n meno o meno b queste quattro opzioni ci servono per capire cosa si connette ad internet e se c'è qualche software malevolo all'interno del nostro computer diamo l'invio e vedete che alle nostre quattro colonne se ne è aggiunta una la colonna pid che cos'è il pid il pid è il l'identificativo il numero identificativo del processo se voi andate qui nella gestione attività in dettagli vedete che c'è una bella colonna una linguetta dettagli c'è una bella colonna con la scritta pid se schiacciate cliccate sopra pid si mettono anche in ordine numerico quindi noi riusciamo a confrontare i vari dati della task manager quindi della gestione attività e del nostro pro dei comandi attraverso il pid anche perché se poi vogliamo ad andare ad agire in un processo dobbiamo farlo per forza da qua perché qui non possiamo fare nulla qua possiamo solo nel prompt visualizzare ora cosa dobbiamo fare per controllare il nostro computer ebbè dobbiamo metterci lì con la tanta pazienza e controllare processo per processo se sono processi del computer oppure se qualche processo esterno che ci sta infettando il pc come possiamo fare facciamo due esempi così vi faccio vedere iniziamo per esempio con questo tcp eccolo qua ve l'ho sottolineato quindi il protocollo è sempre lo stesso l'indirizzo è un indirizzo locale che parte dalla porta 54.714 e arriva alla porta 443 di un altro indirizzo dobbiamo fermarci un attimo e capire che cosa sono le porte del computer allora nel computer ci sono 65.536 porte allora immaginatevi una casa con 65.536 porte si è stabilito come standard che ogni applicazione utilizzi la sua porta per esempio in questo caso la porta 443 è la porta del protocollo https quindi hyper text transfer protocol invece per esempio il browser quando va su un sito normale senza sicurezza in http utilizza la porta 80 oppure il nostro server di posta in uscita utilizza la porta 25 quindi noi cosa capiamo da queste due righe capiamo che abbiamo una connessione stabilita che passa dalla porta in uscita 443 con il numero identificativo del processo 6540 e il nome del processo telegram.exe ora voi tutti sapete che cos'è telegram se andiamo a guardarcelo qui dalla gestione attività 6540 eccolo quello cerchiamo o abbiamo telegram io ho l'applicazione di telegram aperta per cui questa è un processo che si collega ad internet ma questo processo io lo conosco quindi posso definire un processo buono non malevolo e quindi a questo punto vado avanti vado avanti con la riga successiva tcp di nuovo un indirizzo locale di nuovo la porta 443 io l'indirizzo ip non ho idea di dove porti perché è come facciamo a saperlo non possiamo saperlo connessione stabilita il pid è il 3876 qui ci dice che il processo svc host punto exe se voi andate nella gestione attività e cercate questo processo il 3876 vedete che vedete che ecco mettiamo in ordine di pid 387 secoli qua vedete che ce ne sono tanti di svc host vi dico subito che svc host al 90 per cento è un processo di windows dove si nascondono dei servizi quale servizio si nasconde guardate un po qua vpn service allora se vogliamo toglierci proprio il dente andiamo su google siamo su google e scriviamo vpn service windows push notification system service bene è un processo di windows ottimo tutto a posto possiamo continuare il nostro controllo e andiamo avanti così ora un segreto se voi leggete il nome del processo il nome del processo lo conoscete tipo firefox punto exe thunderbird punto exe sono tutti software che ho installato screen recorder launcher exe potete andare avanti tranquillamente voi vi dovete fermare nel posto in cui non conoscete non conoscete il processo e dovete andare a scavare cercando prima se avete il nome del processo se invece si nasconde dentro un dietro un svc host andando magari cercando su internet indirizzo ip la porta altro segreto di solito i software malevoli stanno o in listening o in established quindi o instabilito o in atto in ascolto quindi andate a controllare solo questi gli altri difficilmente c'è un virus dietro poi se volete invece essere proprio super bravi andate a controllare di tutti detto questo io spero che questo video sia stato utile ho tentato di essere il più veloce possibile e di spiegarvi le cose nel miglior modo possibile se avete delle domande come vi ho detto prima fatele nel forum di pc primi passi punto it oppure qui sotto nei commenti dove cercherò di darvi le risposte che cercate nei limiti delle mie conoscenze ovviamente detto questo io vi invito subito a mettere il pollice in su a iscrivervi al canale a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video